Bella a tutti ragazzi sono tornato su Walking Dead della stagione 2 e sono pronto ad andare a rubare le i medicinali sarò un bordello allo sicuro zombie ovunque e via qui che cosa diceva? un'algo accossigenata sicuro non passo dalla porta principale se non sarebbe troppo intisgano speriamo la metto come opzione no io entro dalla porta con la giornata qui chiusa chiusa credo che sta avvicinando oh qui ci sono altre finestre vediamo se è parta questa ma non credo no io ci provo come on oh no comunque ragazzi adesso mi sono intrippato anche con la serie tv di Walking Dead mamma mia merda tutti incinta addio come mi serve no sto scendo che dite? busso io busso dai n***a ti prego mi serve il tuo aiuto dai ti prego ti prego ti prego ti prego ti prego ti prego posso dire che sei carino ti prego ti prego non dai No, no, no. Sì, sì, basta che tommo ovvio. Ma non l'ho già trovato, però lo stesso. Ok, buono. And I got you a juice box in case you're thirsty. Thank you. Alvin, house meeting in five minutes. Oh, ok, grazie. Now you need to go. A questo punto io le provo tutte tanto. Eh, zia, non è che possiamo far molto, eh. Siamo per di qua. Torno giù e... No, esca adesso qui. E proviamo ad andare all'altra parte. Vamos. Poniamo questa. Non ci arrivi. Eh, quindi non arrivi neanche all'altra. Quindi dove cazzo passiamo? Scusa mia. E adesso? Aha. Dai, che due coglioni. Ah, infatti stavo per dire, ma non è il martello. Bene. Bravo. Merta. Apri. Ma poi c'è una cosa che non capisco. Ma se siamo nel bel mezzo di una foresta, sti cazzo di mo... Ho scritto un rumore. Sti cazzo di morti da dove minchia arrivano? Mi preoccupa il fatto che non posso tornare indietro. Non fa troppo rumore, Krishna. Ma provo il martello. Eh, ma cazzo. Dai, dai, schissa, schissa, schissa. Cazzo, hai rotto il coltello. Eh, vabbè, però si è aperto a me. Non riesco a capire come ha fatto a non sentirti, però. Noi, è molto bello. Noi, Luca ha più da dire, credo. Noi, per sempre lo svegliare. E allora ci sono, come abbiamo bisogno della verità. Non abbiamo bisogno di armiare. Non abbiamo bisogno di大概are. Amm, non è molto bello. Lei può essere, ma non lo so. Ha detto che aveva una dita con un amore. Ma ero in cui si è in particolare. Ma è vero che si è in particolare. Meglio levarsi al cazzo va? Qui si può andare? No, io mi leverei anche dai coglioni Ho visto delle scale Non fare rumore, non fare rumore Sì, beh, tranquilla, è solamente fatto un casino assurdo Tanto mi sgamano, sicuro Sicuro come loro No, 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 non è possibile Ssh Sì, non dovresti essere qui Sì, posso aiutami? Non dovresti parlare con te Mi padre non lo sapevo Sì, no, no Sì, no, no Sì, 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 non Sì, non Sì, non Sì, non Sì, non Non Cosa Non Sì Non Non Sì Non Non Sì Non Si Per Si Sì, fantastico. Sì, siamo amici, certo? Possiamo essere amici amici. Non ho conosciuto un uomo di un uomo di un uomo, ma scusa. È difficile essere un uomo, sai? Rebecca è ok, ma lei è vecchia. E questo è tutto. E se la bambina è un uomo, sarà un uomo sempre prima di essere amici. E poi sarò un uomo. Sì, siamo amici. Amici? È importante. Amici amici. Amici amici. No, 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 no. Ti prometti o non? Sì. Mi prometto. Me anche. Frans. Un pincao sceglie sempre. Vedo se posso trovare le cose che mio padre usa quando ho un uomo. Devo guardare. Nel frattempo... Mo entrano in sgamo, sicuro. Sì. 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 Ahia. Ah era lei. Grazie Sarah. Uno in bagno magari lo trovo. Forse. E' sbloccato. Boh, non so. Mi è andato per controllare. Cazzo, entro in doccia, entro in doccia. Anzi no, qui, qui. Oh, stanno in grado. Merda, mi sto sul cazzo. Dammit. Come fa chi sei il suo? Che zoccola. Che zoccola, gli ha fatto le corna. Che bastarda. Mo' a scendare quel ragazzo di scala e vedi te. Io sto muovendo poco la levetta, però il rumore lo fa lo stesso. Forse, ragazzi, riusciamo a non farci sgamare. Forse, ragazzi, riusciamo a non farci sgamare. Ma, mamma mia, è troppo bravo. Su, con la mela, non penso che c'è triple il corpo. Ma devo mettermi lì a curarlo, no? Questo è stato un sacco. Allora, prima... Vabbè, prima... Lo... Me li chiamo. Mi chiamo. Ho male io per lei? Ok. Ok, ok. Ok, sono bene. Sono bene. E ora la parte divertente. Mi chiamo. Mi chiamo. Mi chiamo. Allora... Ago è figo. Oh, Gesù Cristo. The fuck? Si, madame mi fa far tutto. No, ragazzi, sto male, eh. come Cristo l'ha fatto vedere Gesù Maria madre di Dio Sì ma ragazzi possiamo andare avanti così E sto già tenendo premuto E' già premuto Il cameraman è morto Madonna santa Che schifo Queste cose mettono un'impressione Da Madonna Ma poi guardate ho fatto troppo bene Cristo Dio Ma poi con sti versi starei tipo tirando tutti gli insombini No ce l'hai fatta Clement Andai Ora devi solo bendare Beviti un goccio di succo Ma prima che crepi E ora benda Co Perchè Oddio Chi sta Oh ma quasi morso Ma quasi morso Dai Ma non è facile Merda Merda Visto il rastrello Veso No 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 Sto pigiando Cazzo Mi fanno un caccare nella mano Dai Su Ma che cazzo Non mi faceva far niente Da fuck Non mi faceva far niente Mi chieda qua Aspetta Ma che cazzo Vieni da cazzo Zombi Merda Eh va Ti finisco Dai Schiaccia 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 Lontanati Motherfucka Niga E poi cosa devo fare dopo Y Che cazzo Stìl Not Bitten Akim Esbloccato Holy Shit What How the hell did it get in here little girl's tough as nails are you alright this shed shouldn't be safe I'm still not bitten I never was and you left me out here to die you patched yourself up did she steal from us this doesn't change a thing she hasn't done anything to us says the man not carrying a baby enough already you left me no choice you could have just left relax Rebecca I could have gone but what are you saying bring her in and I'll take a look at her arm don't let her sneak around here we better get inside are you hungry? ok we still have to finish but we'll go this might hurt a little how she looked her suturing skills need some work but otherwise I say she should be fine so it wasn't a lurker bite if it was the fever would have already set in and her temperature would be through the roof coglione ti sta bene demente di merda I wish you wouldn't have done what you did I was hurt and you weren't helping because we considered you a threat which you were maybe you still are no I'm not we put you in that shed out of concern for the safety of our loved ones and then you escaped and persuaded my daughter to steal from us I'll give you the benefit of the doubt but there are a few things you need to know about my daughter okay she isn't like you you may not get that initially but once you're around her for a while you'll understand if she knew how bad the world is what is really like out there she would cease to function she's my little girl she's all I have left and I would ask that you stay away from her I'm sorry I didn't know it's okay you're forgiven just don't make any more mistakes praticamente non vogliono cioè suo figlio non sa dell'invasione in zone che cazzo è oh l'uomo di candela that's gonna leave one hell of scar meglio che perdere you can say that again scars they're way cooler than stones definitely tu sai che vuole sto qui ancora hai finito di guardarmi guard I just want to say I'm sorry for being a dick out there I got kind of aggro and that was definitely not cool Nick's been known to go off every once in a while don't hold it against him I mean I guess we all have our moments you definitely had one out there you were just protecting your friends I get it I didn't mean to be so harsh I just we had a bad experience once what happened? Nick lost his mom we took care of someone who got bit it was my fault it was no one's fault we thought we could control it but we couldn't and then she turned and his mom was standing right there and she got attacked there was nothing we could do about it anyway hopefully you understand I do yeah eh va bene dai preco pezzo la migga mi sta ancora sul cazzo so since you're pretty much on your own and what's your plan? no I don't know I'm kind of on my own now well you're welcome to stay here if you want and let yourself heal up take some time to sort things out hmm bene bene do you think everyone else will be okay with it? no no just have to deal with it olé mi familia so what happened to your parents? if you don't mind me asking oh Jesus I mean I assume what happened to them is what happened to just about everyone's parents just so young didn't think you could have made it on your own for so long but maybe you did they died that's tough I uh I lost my folks too my folks hey I'm sorry I I shouldn't have asked my parents went on vacation and left me with the babysitter and they never came back eh sono praticamente tutte tre e lasciate i tuoi animi but they were already dead well I'm sorry to hear that this man found me and took care of me we met up with other survivors and we all tried to make it but it didn't work his name was Lee he taught me how to survive Lee madonna that's he's the reason I keep my hair short what happened to him eh indovina the same thing that happens to everyone but he saved me first lots of times now sounds like he was a real good guy certamente he was 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 I hate dinner but I'm out there standing and watching and I can't help but notice this place is lit up like a god damn beacon in the middle of the woods yeah it's time to turn in anyway now get your wings while you can because we're going fishing at first light a couple fresh brookies for dinner mmm wouldn't that be nice this man is a simpatico the backchoke I don't know why I don't know why but what I thought I was just levitating the table oh you're still here oh obeso di merda nella prossima puntata ragazzi perché voglio sentire proprio curiosi sentire cosa ho da dire ancora sta rompicazzo quindi ragazzi ci vediamo alla prossima bella